Come on! Come on! E' un bel evento mi sembra, insomma la gente ce n'è abbastanza e penso che sia proprio riuscito bene questa giornata dedicata alle radio. E vogliamo parlare anche di televisione, no? Noi facciamo radio, purtroppo ci troviamo un po' in difficoltà davanti alla telecamera, anzi parlando dovremmo guardare l'obiettivo come si fa normalmente in televisione, ma... Ma questa è in presa diretta. E' in presa diretta, facciamo finta di essere alla radio e naturalmente raccontiamo la radio. No, 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 sì, penso che siamo in presa diretta in televisione, però in radio siamo sicuramente in presa diretta, anzi io cambierei anche il prossimo bra, il sottofondo, per far vedere veramente che sono le 17.23. Questa è Web Radio Network e domenica 28 settembre nel corso del pomeriggio io ascolterei il prossimo brano.